Ciao a tutti, io sono Elisa e oggi parliamo del mio percorso scolastico. Questo video si è fatto un po' attendere, ma perché ho avuto altri impegni e adesso ci sono. Partiamo dalla fine della terza media. Devo dire che onestamente io non è che spiccassi nessuna materia, io sono sempre stata quella che è brava ma non si applica, cioè potrebbe fare di più. Non mi è mai interessato onestamente fare di più, quindi magari preferivo stare meno tempo sui libri e magari andarmi a fare una passeggiata o giocare in giardino. Quindi sostanzialmente la mia scelta dalla terza media è stata cosa posso fare, in cosa sono più portata. Non sono portata in niente in particolare, ovvero non mi piace particolarmente il latino o il greco, quindi non ho scelto un liceo classico. Non ho scelto un liceo scientifico perché la matematica e io siamo veramente su due piani completamente diversi, però non volevo fare un istituto tecnico e quindi ho deciso di fare il liceo artistico, che aveva fatto anche mia zia. Penso che sia stata la scelta migliore che io potessi fare perché mi sono trovata davvero davvero bene fare molto volentieri il liceo. Il mio liceo è stato un liceo un po' particolare, ogni cambio dell'ora cambiavamo aula a seconda della materia che dovevamo fare, avevamo i nostri armadietti, i professori erano diciamo un po' particolari, ma come capita in tutti i licei, però devo dire che specialmente i professori delle materie artistiche erano veramente bravi, cioè mi sono trovata molto bene, specialmente negli ultimi tre anni. Quindi niente, mi è piaciuto davvero tanto. La cosa che non mi è piaciuta del liceo è stata la disinformazione e l'abbandono che c'è stato nel momento in cui uno esce da una scuola superiore e deve decidere che cosa fare della sua vita. Servirebbe una figura o comunque qualcuno, anche chiamare semplicemente i vecchi studenti che vengono e spiegano agli studenti uscenti come sono strutturate le università e soprattutto che hanno molte possibilità di scelta. Mi sono diplomata il 4 luglio del 2014. Da quel momento in poi io non sapevo che cosa fare. Diciamo che mi era piaciuto molto Freud e ero tentata di fare psicologia, però non ero sicura di entrare, non ero sicura che quella fosse la mia strada e quindi, visto che mi piaceva molto leggere, ho deciso di iscrivermi preventivamente all'indirizzo di storia tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari, con l'indirizzo più specifico di beni archivistici e biblioteconomici o librari di Firenze, che poi alla fine è stata l'università triennale che ho fatto. È stato un solo e unico problema, diciamo, nella scelta di questo indirizzo, anzi, diciamo più di un problema. Il fatto che uno ci fosse latino al primo anno che io non avevo mai fatto e che mi sono lasciata per ultimo esame sbagliando, vabbè, lasciamo perdere, ultimo esame tragico. Mentre per la magistrale ho scelto di spostarmi e di trasferirmi a Torino. Ho deciso di mettere insieme le due idee iniziali, ovvero lo studio della storia dell'arte bene o male e lo studio della psicologia che alla fine non avevo intrapreso, perché lo stesso giorno in cui ho iniziato le lezioni mi arriva una mail dalla segreteria dicendomi che con il primo scorrimento della graduatoria io ero entrata a psicologia. Io ho impiegato, fra l'altro, ve lo dico giusto per farvi un'idea, sono entrata nel 2014 a settembre e mi sono laureata in triennale nel dicembre del 2018. Nel frattempo però io a settembre 2018 mi sono trasferita a Torino e ho iniziato la magistrale di antropologia culturale e etnologia. Quindi diciamo che ho cavallato per un breve periodo, anche perché alla fine mi rimaneva soltanto da discutere la tesi della triennale. Non dovendo seguire altre lezioni ho deciso di iniziare e di dare una mossa. Mi sono trasferita a Torino e ho iniziato antropologia culturale e etnologia, che mi è piaciuta tantissimo. Adesso sto finendo questo percorso. Sono stata sottoposta a un colloquio veramente breve, 15 minuti neanche, dove mi è stato chiesto perché volevo frequentare antropologia culturale a Torino, come mai mi ero interessata, eccetera. Appena mi sono laureata a Firenze ho subito fatto domanda, compilato tutto e inviato e mi sono iscritta a Torino. Mi sono trovata molto bene, mi è piaciuta tantissimo come università, come corsi. Mi sarebbe piaciuto poter vivere di più l'ultimo anno, quindi ho potuto frequentare le lezioni e è un peccato perché in questo ultimo periodo in realtà si creano anche dei legami sia con i professori sia con gli altri alunni, le altre persone che frequentano. E vabbè, è andata così e così ci atteniamo fino ad arrivare ad adesso. Io se non facciamo le corna, tutto quanto, dovrei laurearmi nei prossimi mesi. Poi sarà un bel casino, una bella avventura perché finito di studiare purtroppo si diventa grandi e bisogna scegliere che cosa fare, decidere, entrare nel mondo del lavoro e qua è tutto un altro mondo e sono altri problemi. Ma non ci pensiamo, ci penseremo più avanti. Ok, io spero di avervi dato delle informazioni, vi ho raccontato semplicemente come mi sono trovata in questi anni. Se sentite un cane a bagliare il cane di mia suocera. E niente, vi aspetto. Se volete scrivermi qua sotto un commento, se avete le domande più approfondite sui corsi di studi che ho fatto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!